bonsoir alle garzong alexander e donovan bonsoir a smile ea pascal patà che è il nostro traduttore di eccellenza e questa è un'occasione speciale perché smile bozzazze è un insegnante di una scuola edile francese che è venuta lo scorso anno da noi e insieme ai suoi ragazzi ha fatto la gettata in cemento dell all'interno della chiesa sulla navata sinistra che è la stessa che voi vedete alle mie spalle quindi vuol dire che io in un anno ho lavorato tantissimo ti piace smile il lavoro che è stato fatto ci piace il ci piace il po Vermont mi piace il sostit образo l'innovamento con la fama alla sono messe di a presenti e quindi tutti i ricchi viceversa l'innovamento delle persone che i uberto dalle senza il tempo che non si chiama hanno detto che questo è un bellissimo lavoro che adesso seguono tutti i lavori le foto e i video che tu metti sul facebook e che loro saranno contenti di rivenire e lavorare ancora una volta nella chiesa io li aspettavo quest'anno ho immaginato nel 2020 che loro ritornassero perché è una squadra veramente eccezionale i ragazzi nonostante tutto siano molto giovani sono riusciti a fare un lavoro veramente incredibile e quest'anno dovevano gettare tutto l'interno della chiesa poi ci siamo divertiti insieme perché siamo andati a cena fuori siamo andati a visitare un'altra scuola che si trova a Perugia abbiamo conosciuto un'azienda che poi ci ha fatto anche da sponsor donandoci del materiale che è la chimia e quindi sono state veramente due settimane intense allora in effetti allora in effetti avete quindi la chance di poter visitare tutta la region visitare un'ecole visitare anche un'usine qui d'ailleurs participe a present a donnavi dei materiali quindi a l'eglise e soprattutto avete passato molto tempo con le sorti a l'extensione si a un po' di niente non c'è stato il but di gioia di gioia ma per quanto riguarda il cantile c'era più o meno un'eglise 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 e dire ai giovani che ce che ci hanno fatto ci sarà le resti sui decenni anche di loro famiglia quindi lieranno il messaggio i loro bambini 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 ah beh beh ah cosa c'è Dore ha detto che tutti gli studenti adesso parlano tutti ai loro amici alla famiglia dei lavori che hanno fatto e il piacere che hanno avuto a lavorare e a vedere la tua regione anche il lavoro nella chiesa eh guarda per me è stato emozionante infatti in quel periodo lì c'era Margie e Margie Bertrand che è una mosaicista canadese e mi ricordo la le nostre battine quando si ci alzavamo alle sei per poter far trovare cinque litri di caffè ai ragazzi si si a finito una comunica canadiana e si sono subito a 6 ore prima prima che prepara 5 timbre di cazà per se accuegire cazà un buon cuisinieri un buon ambiante anche la collède di Montigny e Mess e le persone che chiedivano su classe, c'era un giorno molto, molto agriante. Ha detto che il caffè era molto importante per la gente dell'edilizia, ma erano molto contenti con il cuoco. Luigi, è vero, è vero, è vero, era buonissimo. E noi abbiamo detto anche che erano molto contenti di lavorare con il gruppo di CFA di MES. Ci erano tutti due gruppi quest'anno. Devo dire che sono venuti due volte. Voi siete venuti due volte, sembra, Smaïla. Voi siete venuti in avril, non? Voi siete venuti due volte, non? In avril 2018 e in avril 2019, è vero? Voi siete venuti in giugno, in giugno, in giugno 2010. Voi siamo passati, ma Andreina è stata con te all'epoca. Ah, sì, d'accordo. Voi siamo passati, non? Non, non. Voi siamo passati, non è venuti a vedere come si è venuto. Voi erano, non è venuto a vedere, non è venuto a vedere. con i miei piccoli e abbiamo realizzato il giugno di quello che ti ha realizzato a qualche anno allora Smile è venuto in mezzo giugno 2018 ti ricordi quando noi eravamo a Parallemoniale io ho avuto la notizia perché Smile ti ha chiamato che noi eravamo a Parallemoniale lui ha visto il cantiere e Don Santi ha fatto visitare la chiesa e dopo lui ha organizzato il lavoro e ha fatto il gemello della cosa abbiamo fatto noi abbiamo fatto la destra e lui ha fatto la sinistra e ora tutti insieme faremo praticamente la parte centrale della chiesa vero comunque sono altri 240 metri quadri va benissimo tra l'altro devo ringraziare questo gruppo Pascal perché alla fine vivere 15 giorni con tutti questi ragazzi molto giovani ci ha fatto a noi dell'equipe del Mosaico che è basata sul volontariato ci ha fatto sentire anche a noi dei ragazzi pieni di energia di voglia di vivere e di fare le cose e infatti allora ha detto che di aver passato 15 giorni con lui con tutta l'equipe è stata un'azienda e una passione che è stata partita per realizzare questi lavori anche umanamente che tecnicamente e poi è stato bello perché alla fine eravamo riusciti a creare un gruppo unito non c'erano differenze è un'unità un'unità vero per riusciti per riusciti che poi che poi è stato funzionato in un'equipe come su un chantier quindi non c'erano più di professori che di apprenditi l'osmose e la convivialità del gruppo è che siamo tutti 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 insieme questo è stato importante un giorno eravamo 44 a tavola perché comunque nel periodo in cui sono arrivati loro c'è stata una produzione di Roma tramite la fondazione Il cuore si scioglie che ha realizzato un documentario e poi avevamo la regista e ovviamente l'equipe erano di Roma e hanno intervistato Smile i ragazzi tra l'altro anche il direttore e il vice direttore della scuola delle Ardenne poi abbiamo avuto i rappresentanti della Chimia della MAPEI che comunque sono aziende che ci hanno donato del materiale quello per me è stata una giornata indimenticabile perché voi immaginate 44 persone in una realtà piccola come la nostra da gestire in maniera diversa e complementare e poi c'era qualcosa che era veramente marcat eh sì io ero impazzita ero impazzita però un giorno bellissimo Smaile 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 avevano un lien con la TNF ma ce che abbiamo apprezzato è il contatto che tu avevi messo con Kimia e il chateau di Perugia il castello di dove? Smaile è molto bene accogli d'ailleurs abbiamo fatto un rapporto mi sape che ti l'ho invogli Pascal e poi a Andrina i ragazzi hanno fatto un rapporto su cosa che ci sono passi proprio un giorno e Kimia con un rapport che è stato molto contento che abbiamo accueilli la partecipazione dei giovani non solo su la visita ma anche su le 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 i i i i i i i i sono stati molto contenti di fare questa visita alla chemia e hanno fatto un documento sulla chemia e tutti i prodotti che hanno messo con quello che hanno lavorato quindi è stata proficua la nostra collaborazione insieme allora io vorrei fare fare una promessa a Smael che appena è possibile ritorni da noi chiedi a Smael una promessa di ritornare qua e terminarmi la shop dell'egglise eh la gettata della chiesa allora allora tu devi fare una promessa se tu devi venire terminare la chiesa di l'egglise che no non 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 carino c'è 400 metri quadrati credo esatto e digli che è una promessa fatta oggi è un documento importante chi fa la promessa tu Andrina o Smile no no Smile a beh se Smile tu devi fare la promessa di venire o termine il chantier terminare continuare il chantier e in particolare fare la shop la nef la nef la côté gauche c'est ça à peu près oui donc on attend une journée donc c'est faisable si elle a la matière c'est faisable pour les 15 jours on peut la divise en 4 oui oui il faut la faire en 4 parties sera possible un quid di giorni di fare questo sottopondo ci sono 420 quadrati da fare 4 pezzi penso e smile dit che è possibile sì sì posso venire a fare il capocantiero certo perfetto è stato veramente bello incontrarvi io vi ringrazio tantissimo perché perché la Francia ha contribuito tantissimo a quest'opera sia in prestazione di mosaico perché sono tanti mosaicisti che sono venuti qui o che hanno realizzato da casa dei piccoli particolari da inviarmi che troverete soprattutto nel tappeto musivo esterno ed interno alla chiesa sono tre le scuole sono i tre gli appuntamenti delle scuole che sono venute qui sempre dalla Francia e quindi che dire Francia forever la france tourne toujours Francia forever en fait il y a beaucoup de frances effectivement que ce soit des mosaïstes que des écoles qui sont venus donner un coup de main qui ont participé qui sont venus travailler à l'église mais aussi des mosaïstes qui ont envoyé des petits éléments des petits mosaïques a positionné dans l'église et c'est vraiment la france effectivement les français les mosaïstes français les écoles français qui ont le plus participé dans cette église et de toute façon c'est un très beau un très beau et très bon projet puisque c'est toi Pascal qui je me l'ai montré rappelle-toi vous en avez fait des régionales les grandes régions de la plate de métier à Reims et tu m'as amené le projet le prévisionnel ce qui était fait ce qu'il y avait à faire et ce qu'il fallait faire et rappelle-toi que je l'ai soumis à notre président et à notre secrétaire générale qui a adéré aussitôt à ce projet puisque il était complet j'ai dit le directeur le président des plastilistes de la Champagne et leur a dit subit aussi que c'est un projet bellissime bene sono contenta e quindi io vi riaspetto vi abbraccio Kaleen Kaleen à tout et vi aspetto presto et vous attend rapidement bientôt au revoir quelque chose a rajouté ce que je vais rajouter c'est que on était très bien accueillis par le par le cuisinier Luigi il y avait le sculpteur comment il y avait le sculpteur il y avait comment ce qui a venu chercher à l'aéroport c'était ici il y avait Louis lover il y avait é il y avait Barbagli, Marghi Bertrand eh sì che sono le persone che sono state qui grazie a voi grazie a voi grazie io vi abbraccio forte vi aspetto presto la prossima la prossima la prossima ciao grazie Pascal della traduzione grazie e merci a Smaïl, a Donovan e a Aleksander e salut a tutti i gruppi eh? grazie bisous De Carlo De Carlo eh lo so De Lensò ciao buona giornata grazie ciao 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 Grazie per la visione!